Una due giorni per celebrare un anniversario importante, quello dei dieci anni di Confimi Industria. La sezione BariBat Foggia ha ospitato il presidente confederale Paolo Agnelli a Rotary Club di Bari e nel secondo appuntamento, insieme al rettore Antonello Garzoni e al direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello, lo stesso presidente confederale, ha tenuto una lezione magistralis all'Università LUM per studenti, imprenditori e docenti. con una discussione sul tema Nuovi Scenari della Manifattura Italiana. La media impresa è quella che può crescere in Italia, quella che va aiutata, perché la grande impresa diventa come sono diventate tutte le multinazionali che in un attimo lasciano l'Italia. La media è quella che può dare grossi risultati in termini di PIL, la media è quella che può esportare e la media è quella che va aiutata per le sue difficoltà. È anche l'occasione per siglare un accordo che la LUM farà a livello nazionale con Confimi Industria a livello nazionale in relazione a tutte le attività che sono di Executive Education e di formazione post laurea. Attraverso Confimi abbiamo rimesso al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e dei decisori politici, ma soprattutto dei giovani, l'importanza della Manifattura Italiana per lo sviluppo del nostro Paese. dobbiamo insistere, consolidare e continuare questa azione. Il tema delle imprese oggi è sempre quello di creare sviluppo, ma diamo priorità come non mai all'orientamento e alla formazione di nuove leve per inserirli e aiutarli nell'ingresso nel mondo del lavoro.